Salve a tutti e ben ritrovati, qui è Michele di M.M.City ed eccoci nuovamente qua con una piccola novità da annunciarvi. Siccome purtroppo siamo di nuovo in lockdown e non abbiamo più occasione di uscire per un po', la regia del progetto Christine Joanne mi ha fatto una deliziosa proposta. Mi ha detto, Michael, tu sai benissimo che io sono un'ottima ballerina e organizzo anche eventi di ballo e tu hai anche un fratello in casa che balla molto bene e che sta facendo una tesi sulla danza. Quindi parliamo del ballo, della danza e lo faremo utilizzando il metodo stile giornalistico delle 5 W ovvero rispondendo a who, what, where, when and why, chi, cosa, dove, quando e perché. Perciò argomenteremo la danza attraverso la risposta a queste 5 domande e lo farò grazie all'aiuto di mio fratello Gabriele. Quindi ci vediamo presto con la risposta alla prima W. Piccolo avviso per te che forse è la prima volta che entri sul canale M.M.City e stai guardando questo video clicca sul watermark in basso a sinistra con il piccolo tasto dove c'è scritto subscribe e iscriviti magari se vuoi seguire anche i prossimi video che posterò. Bene, ci vediamo presto con il prossimo episodio, anzi prestissimo. Qui è tutto da M.M.City